Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Cioè, fondamentalmente possiamo adesso fare in modo che nasca la razza umana sul pianeta Terra, oppure, spendendo dei punti di sintesi, possiamo utilizzare una specie molto più bilanciata, ossia fare in modo che siano i delfini a diventare la specie senziente del nostro pianeta, oppure i dinosauri. No, vabbè ragazzi! Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video esplorativo. Oggi parliamo del videogioco The Fermi Paradox, il paradosso di Fermi. Questo titolo prende il nome da un famosissimo paradosso del premio Nobel italiano Enrico Fermi, che disse se ci sono così tante civiltà evolute nell'universo, perché non siamo ancora riusciti a trovarne traccia? Il paradosso ovviamente faceva leva sul fatto che c'erano tanti, ci sono tanti modelli che permettono di stimare la probabilità di sviluppo di vita intelligente nello spazio, ma forse noi non abbiamo ancora imparato come intercettarlo, forse queste stime sono sbagliate, insomma questo è il paradosso. E questo gioco ci mette nei panni di un dio intergalattico, che avrà come unica possibilità di scelta quella di interferire nello sviluppo di forme di vita intelligenti in giro per la galassia. E il gioco promette uno stile narrativo molto interessante, l'estetica è fenomenale, la grafica è molto carina, è la prima volta che lo faccio partire, quindi me lo godo insieme a voi. Ok, dobbiamo scegliere uno slot? Scegliamo il primo? Benvenuto alla versione in Early Access di The Fermi Paradox. Cerca di sviluppare le tue nuove civilizzazioni attraverso la galassia, così che possano mandare segnali radio come primo step, e mettersi in contatto l'una con le altre. Raggiungi l'età della singolarità con almeno quattro civiltà per raggiungere l'unificazione galattica. Ok, non sono riuscito a leggere tutto, ma voi siete bravi, potete andare dietro, mettere in pausa e tradurre. Una nuova galassia sta per nascere. Fiat Lux, si direbbe. Gioco molto interessante, gioco sicuramente un po' fuori dalle righe, sviluppato da Anomaly Games, una casa non famosissima, ma sicuramente con questa idea che mi sta piacendo. E intanto che i nostri pianeti prendono forma, vediamo come divinità intergalattica, anzi galattica perché parliamo di una galassia sola, che cosa possiamo fare. Magari ci sono altri miliardi di divinità come noi in altre galassie. 50 sintesi, tutorial attivo. Ok? Tu sei il giardiniere della galassia. La vita sapiente si evolverà e prospererà nella nostra galassia. Aiuta queste civiltà a crescere, a trovarsi tra loro, ma stai attento a volte. Devi prevenire che queste si distruggano da sole. Giochiamo un tutorial. On the handle, do all planet have the optimum condition for life to grow. Click on this star system to take a closer look. Clicchiamo sul sistema stellare per prendere un... Ah no, forse qui. Ok. Frogstar system. No sapient lifeforms have evolved on this planet. Frogstar, a flare star system, contains the swamp moon Frogstar. One additional rocky planet has a massive debris risk. A huge broadcast giant feeds the night sky of a swamp moon Frogstar's one. Nearly every plant on the planet's surface is full of thorns and very toxic. The gigantic river deltas covering the surface of Frogstar's one are home to millions of different animals. Non andrò a tradurre tutto il testo perché altrimenti il video sarebbe estremamente difficile. Lo leggerò in inglese e commenterò in... Ovviamente a mente e commenterò in italiano. Allora, questi sono flare, questi sono... Queste sono cose su cui possiamo interagire. Piccoli inizi. Andiamo a cliccare sul primo. You need to accumulate synthesis to make optimal choices in the future. Abbiamo appena guadagnato un punto di sintesi, ok. È appena nata una civiltà. Non ho capito quale scelta abbia fatto scegliendola prima. Probabilmente c'era una scelta che non ho colto. Click on the button, va bene. Vediamo qual è il nostro primo evento. Il sistema è quello di Frogstar, ok? E qui viene descritto. Clicchiamo sull'evento evoluzionario. Gliese System. Una forma di vita senziente si è evoluta a gliese C. Vedete che sono tipo all'età della pietra. Ah, ok. Ok. Una nuova forma di vita ha iniziato a fare dei semplici strumenti e una forma rudimentale di linguaggio. Ma quale specie formerà l'età della pietra di gliese? La prima di tante decisioni sta per arrivare. Possiamo prenderne tre. Una specie bilanciata ci farà perdere punti di sintesi. Una specie standard sarà standard. Una specie sbilanciata ci farà guadagnare sintesi. Andiamo sullo standard. Questo è molto interessante. Vediamo anche i disegni. I Car. Hanno sempre fame e sono senza pietà. Sono delle creature volatili da incubo che praticamente controllano i cieli. Ecco perché sono sbilanciate. Perché probabilmente non riescono a... Perché volano. Poi ci sono i Rao. Aggressivi e solitari. E poi ci sono invece i Prune. Osservatori pacifici. Addirittura hanno quattro occhi e assomigliano a degli umanoidi però tipo cavalli. Ok. No. Prendo la specie standard. Voglio prendere i Rao. Selezioniamo i Rao per questo pianeta. E la prima civiltà. Quindi i Rao iniziano a fare i loro primi strumenti e a comunicare. Allora. Tech Level è determinato in stelle e fondamentalmente determina la tecnologia. Population determina il numero degli abitanti. Le risorse determinano le risorse. Harm Potential. Vabbè è ridicolo lo so ma lo devo dire. Harm Potential è la possibilità che questi possano creare del danno. E le etiche. Ok. Interessante. Andiamo a dare un'occhiata. Look more flares. Adesso possiamo scegliere più outcome. Possiamo scegliere più conseguenze. Interessantissimo. Remember that the game is always posed when you collect flares. Allora. Sono all'età della pietra. Sono 1,6 milioni. Gli esemplari. Hanno 10.000 Beast Herds. Che sono le risorse che producono. Il potenziale di danno è del 2%. È molto basso. I valori etici sono per adesso al centro. Che cosa posso scegliere? Ah. Risorse più, meno, oppure cosa? Vado sul più sulla risorsa. Ok. Possiamo aumentare o abbassare il consumo di risorse. Quindi ho appena aumentato il consumo di risorse. Questo è interessante. Usciamo di qui? Allora, la glass è il nostro giardino. Abbiamo bisogno di tantissima cura e amore per coltivarlo. Ok, il tutorial è finito. Qui vediamo che ci... Allora, a Frogstar sappiamo che si sta evolvendo qualcosa. A Rao sappiamo che ci sono i Rao, appunto. E qui su Sol... Questo è il Sole. Generazioni di organismi si stanno trasformando in carboni fossili. Nelle profondità della Terra. Ok, abbiamo appena creato il petrolio sulla Terra, mi stai dicendo? Sarà contenta Greta. Attenzione perché c'è qualcosa che possiamo fare. Allora, una specie di parassiti si è sviluppata come forma di vita maggiore a Tauceti 3. Va bene. Toxie Plants. I Rao hanno trovato una pianta deliziosa nella Terra Selvaggia di Gliese C. Ma sfortunatamente questo tipo di consumo è mortale nel lungo periodo. E infatti molti i Rao stanno morendo e stanno... Si stanno ammalando e stanno morendo. Andiamo a vedere la popolazione dei Rao perché credo che adesso... Beh, sono sempre 1,6 milioni. Però potremmo fare prevenzione, sviluppo regolare o depopolamento massivo. Andiamo su prevenzione. Why is folk of the Rao would find a way to neutralize the toxin? No, dammi prevention che mi sembra veramente fa. Cioè, i Rao, scusate, devono imparare a gestire queste piante. E poi qui che cosa posso scegliere? Mi piacerebbe davvero capire cosa sto scegliendo. Su Gliese C la civiltà dei Rao è nata? Ok. E se prendo il punto di domanda? I Rao hanno appena costruito un monumento gigantesco su Gliese C. E sono arrivati... Stanno aumentando il livello di tecnologia. Aumentiamo le etiche? E hanno sviluppato una nuova forma artistica. Questo porta l'etica versuto più del 2%. Where are we the gods leaders? Dove ci porteranno gli dei? Mettiamo le risorse. Guardate che intanto la popolazione sta salendo. Allora, l'ingiustizia causa sofferenza tra i Rao. Fatemi vedere se posso fare una scelta qui. Ah no, abbiamo appena perso dell'ethical values. I conflitti tra le tribù Rao sono stati fondamentalmente aggiustati in modo pacifico. Sono stati sistemati in modo pacifico. Ok. Insomma, sembra che adesso il gioco mi stia tenendo soltanto sui Rao. Non riesco a fare altre scelte. Ok. Poi potrebbe abbassare la tecnologia. Questo potrebbe abbassare qualcos'altro. Andiamo sul punto di domanda. Abbiamo appena perso un punto di utopia. Caspita. Ok, più pace. Torniamo a Tauccetti. Vediamo di scegliere qualcosa. Se scelgo qualcosa completamente fuori dalla mappa? Allora, no, è Frogstar. Una specie che un tempo dominava. Oh no, si è estinta. Cioè, quindi adesso Frogstar non c'è niente. Torniamo su Rao. Torniamo su Rao. L'età della pietra. No, Giardino dell'Eden. Come alla confluenza di tre fiumi, i Rao trovano... Ah, no, no, no. Alla confluenza di tre fiumi, i Rao trovano una valle disabitata, ricca di cibo e senza dei predatori che possono competere. Iniziano a, praticamente, a piazzarsi qui. Fondamentalmente hanno trovato una zona in cui fondere la loro prima grande città. Fonderemo la Babilonia dei Rao, ragazzi. Se l'avessi saputo, però, li avrei fatti più carini. Allora, Gliese ci... Ok, che cosa possiamo fare con il Dead End? Ci dà più sintesi. Cioè, non succede niente. Sviluppo regolare. Fa crescere molto. Pilastro della civiltà potenzierà tantissimo la nostra popolazione. Assolutamente. Pilastro della civiltà. I Rao, ragazzi, adesso sono 2,1 milioni e crescono al 18%. Che cosa abbiamo fatto? Non voglio creare depopolamento. Voglio che crescano veramente tantissimo. Ok, più tecnologia. I Rao assistono alla morte di una grande persona. A depleted land region, Gliese, recover under the care of our plant. Praticamente abbiamo recuperato anche nuove zone di risorse. Tra l'altro è interessante perché ci dice il pianeta fra 4.728 anni avrà scarsità di risorse. Quindi io forse devo stare attento ed evitare il sovrappopolamento. forse. Quindi andiamo avanti con la tecnologia, se si può. Il lavoro di una persona molto saggia tra i Rao cresce attraverso... Ok, forse stiamo facendo uscire i Rao dallo Stone Age, ragazzi. Andiamo avanti con la tecnologia. Guardate, vedete che... la tecnologia sta salendo. prendiamoci un Flare normale che va nella sintesi. Ok. Adesso usciamo dai Rao e andiamo su Tauceti. Attività sismica ha... l'attività sismica ha prodotto una montagna su Tauceti 3. È bello perché vediamo fondamentalmente i pianeti abitabili di questa galassia, perché immagino, vabbè, i pianeti saranno miliardi, così come le stelle, però... Carino, carino, carino. E adesso andiamo... Abbiamo soltanto una civiltà, è per questo che poi ad ogni turno le scelte le facciamo soltanto con loro. Però sarebbe bello vedere se riusciremo a sviluppare un'altra civiltà da qualche altra parte. Beast Riders. Possiamo cavalcare alcuni animali? I Rao hanno fondamentalmente addomesticato alcune bestie, gliseci, e per motivi militari iniziano a cavalcarli in battaglia. Uh! Qui l'arte della guerra. Prevenzione. Potere assoluto? No, andiamo su potere assoluto. Prendiamoci più sintesi. Forza! Voglio che la cavalleria Rao spadroneggi. Tanto la possibilità di uccidere soltanto 480.000 individui, quindi ne abbiamo 3 milioni, va bene. Facciamo crescere più la popolazione. Avanti! 3 milioni e mezzo di Rao. Un po' di etica, ma sì, aumentiamola allo 0,9%. Intanto qui sale anche un pochino la tecnologia, sebbene di poco. Un gioco particolare. Attenzione! Nel sistema solare una forma di vita sapiente si è appena evoluta. Ok? Una forma di vita senziente, appena iniziato a fare oggetti e a parlare nel sistema solare. Che prego, dimmi che sono gli umani. Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Cioè, fondamentalmente possiamo adesso fare in modo che nasca la razza umana sul pianeta Terra, oppure, spendendo dei punti di sintesi, possiamo utilizzare una specie molto più bilanciata, ossia fare in modo che siano i delfini a diventare la specie senziente del nostro pianeta. Oppure i dinosauri. No, vabbè ragazzi, delfini tutta la vita. Delfini tutta la vita. Avanti. Addio umanoidi, addio scimmiette. I delfini governeranno la Terra a partire dagli oceani. Assolutamente! La civiltà dei delfini è nata! La civiltà dei delfini è nata e ovviamente sono pacifici, sono bravi i delfini. Ma che meraviglia. Andiamo adesso a parlare di Rao. Chissà se un giorno Rao e i delfini entreranno in contatto tra di loro. Forse no. Perché c'è un evento di estinzione. Una forma di predatore molto aggressivo ha attaccato selvaggiamente i loro vicini intelligenti toolmakers. E le creature hanno fondamentalmente attaccato i centri, le città e si replicano molto velocemente. E la sopravvivenza dei Rao adesso è a rischio. Seriamente. Allora, il Close Call ci fa perdere 60 di sintesi e non ce l'abbiamo. L'estinzione completa ci darebbe più punti di sintesi che poi possiamo magari però sfruttare sui delfini. Oppure la sopravvivenza minima ci dà più pacifismo, ma ci fa sprofondare indietro in termini di scienza. Sapete che cosa faccio? Estinzione totale dei Rao. Perché mi voglio concentrare su il destino dei delfini, della terra. E chissà che questa forma di vita che adesso ha preso il posto dei Rao un domani non si evolva. Perché onestamente ragazzi i Rao non erano i miei preferiti. Questo gioco mi sta piacendo sempre di più. Voglio parlare dei delfini. Allora, prendiamo un Flare. Ok, possiamo far crescere subito la tecnologia. Lasciamo perdere la crescita di popolazione. Cerchiamo rapidamente di uscire dallo Stone Age perché ho capito che se non si esce dallo Stone Age in fretta poi arrivano gli eventi di tipo negativo, no? No, questa è una finata pazzesca. Faccio una foto perché la voglio usare come cover. Pazzesco. Abbiamo una nuova tribù. Un capo delfino ha fatto salire il potere sul suo terra. Intanto, intanto ragazzi, i valori etici dei delfini sono già al 21%. Porca miseria. Knowledge in soul. Cosa sta succedendo? Capitani saggi. Allora, le tribù delfini vengono guidate da delle guide molto sagge che conoscono molto bene l'antica storia della Terra e sono motivati a continuare la sacra danza della vita per molte altre generazioni. I loro leader osservano, riflettono e fanno decisioni basate sulla loro saggezza sperimentale e sul loro intuito. No, mi sto affezionando troppo ai delfini e voglio conservare tutta la sintesi possibile per evitare che si estinguano. Allora, lo sviluppo regolare ci darebbe più scena... No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Pilastro della civiltà. L'evento Sage Chiften ci permette di spendere 20 punti di sintesi per avere tre livelli di sviluppo e io uso la sintesi finalmente come grande giardiniere della galassia e porto i delfini al 97% di conoscenza per uscire dall'età della pietra. Ti prego. Cioè, sta andando troppo bene. Recuperiamo le risorse. Siamo al 99,9% ragazzi! Siamo al 100%, ce l'abbiamo fatta. Guardiamo un attimo la nuova epoca. Signore e signore, i delfini entrano nella età del bronzo. E qualcuno mi spiega come fa un delfino ad entrare nella età del bronzo visto che il bronzo è una lega di rame e stagno e va fusa e sott'acqua. Come fanno a fare il bronzo? Ok, facciamo finta che sia un modo di dire. Sono usciti dalla preistoria. E qualcuno mi spiega come fanno a coltivare, ad avere animali per il cibo e a ripulire le foreste. Beh, 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 c'è un'idea che facciano tutto questo negli oceani. Che coltivino alghe, che abbiano dei pesci come animali addomesticati e che le foreste di cui si parla siano barriere corelline. Così, ovvio. Vabbè, diciamo ovvio, per cercare di farla venire così. Amici e amiche, io con i delfini che entrano nella età del bronzo vi ringrazio. Vi chiedo di lasciare un like e vi do appuntamento al prossimo episodio. Fondamentalmente questo gioco è molto interessante. Se ci saranno like e commenti, andrò avanti e lo farò diventare una miniserie. Ditemi che cosa ne pensate. Io per ora vi ringrazio, vi auguro una fantastica giornata. Osserate in base al momento in cui guardate questo video. E come sempre, per aiutarmi, like, 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 like. I delfini saranno contenti. Benio è tutto per oggi. Alla prossima. Grazie a tutti.